buongiorno buongiorno a tutti i signori e signore siamo qui a ac sant'antonio aspettando che apre tf camper per finire di montare la batteria al litio che ci manca il dcdc purtroppo il cine basto non si può montare perché è arrivata la pompa ma continua a non funzionare quindi è proprio un difetto del del cine basto purtroppo e quindi niente mi faccio in quel posto che dirvi ci vediamo fra un po anche perché dopo non so dove è fatto veramente non ho idea sono le pendici del dell'etna come potete vedere dalle mie spalle gaia si sta cacciando al sole si stava cacciando al sole o si sta tiene un po d'artete che deve essere liberata ma non la posso liberare perché è scappata un'altra volta e qua sinceramente non mi fido ok perfetto abbiamo fatto tutto da tf camper e ora possiamo continuare l'avventura dove andiamo non lo so sicuramente verso il mare che fa un caldo che si muore e quindi andiamo verso il mare colgo l'occasione pure per salutare e ringraziare fabio per la sua professione grazie a tutti ragazzi grazie a tutti ragazzi no dove ci troviamo ci troviamo a citresa dopo essere partiti dagli dal ac sant'antonio siamo passati per ACI reale e ora siamo a ACI trezza. Poi vi spiegherò questo ACI da dove viene. Non ho voglia sicuramente di cucinare quindi mi sono andato a prendere qualcosa in rossicceria. Ok, 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 si mangia, si mangia. Wow, la faccia mia, la faccia che mi vuole male. Oh, I'm gonna stop looking at you. Ci troviamo, ci troviamo a ACI Trezza. È un spettacolo veramente, ragazzi. Mi piace da poco lo spazio, tanto di farci fare una panoramica anche a voi. È veramente, veramente bella. Bella, bella, bella. Questa è l'isola dei ciclopi e questi sono i faragliubi. Qui è questo splendido albergo. Abbiamo la stessa vista. L'unico particolare che ci sto gratis. L'unico particolare che ci sto gratis. L'unico particolare che ci sto gratis. L'unica greca antica dice che proprio qui, nella terra dei ciclopi, viveva sull'isola dei ciclopi Polifemo. Il quale era follemente innamorato di una ninfea che stava qui con le sue 49 sorelle a proteggere questi mari. Galatea. Polifemo era innamoratissimo di Galatea. La voleva riempire di regali e se la voleva portare a vivere sull'isola. Ma a Galatea non le interessava niente Polifemo. Lei era innamorata di Aci. Aci era un pastorello che aveva la sua capanna nei boschi e scendeva qui nel mare. Ma un brutto giorno però vide che i due si appartavano tra le rocce e pensò di andare più vicino per vederli. A quel punto si avvicinò di più per vedere cosa stessero facendo. E quando li vide così avvinghiati, la rabbia lo prese tutto, la gelosia impazzì. Staccò un grosso masso da una roccia e glielo scagliò contro ad Aci, il quale rimase lì, giacente, morto sotto il masso. Galatea iniziò a orlare, a piangersi, a disperarsi. Polifemo scappò via e gli dèi, visto il grande dolore e l'ingiustizia, decisero di trasformare Aci in un fiume, così che scendendo nel mare potessero avere un abbraccio che durasse per sempre. Un abbraccio per tutta l'eternità. Un abbraccio per l'arrivo. Un abbraccio per l'arrivo. bella storia come è bello vedere questo spettacolo mentre stai cenando incredibile incredibile buonanotte